salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono andrea e oggi scusate ma ho condotto per ora ho condotto computer per ora sono stato appena con il portatile se si muove un po ma ho sentito il letto infatti come vedete condotto postazione non so come si sente l'audio perchè c'è l'audio delle cuffie e non sento niente prova comunque volevo fare un vlog oggi così tanto per portare qualche video sul canale scusate mi sentito un po' male si fa tutto il momento anche io so con l'auto solo che per un po' raffreddato bravabbè comunque non so ma non mi sta no vabbè comunque voglio fare questo vlog scusate perchè è tipo un mese che non portavo più video sul canale quindi si ho deciso di sboccare a portare a riportarli cosa fosse la mente un blog dopo un mese scusate dopo un mese poi sabato mattina dovrà registrare un video per il canale super questo canale può anche per questo adesso buco la prima la prima la prima ecco qua ci sono scusate un attorno scusate un attorno volevo dirvi che domenica ero andato a verona andato a vedere i banchetti ma vabbè che è un bordero assurdo e niente allora sabato come ho detto prima dovrei registrare appunto tra un po' dicemi vuoi quando potrà iniziare a fare il primo carico di capodanno che già che ho già tipo ditemi a voi quando posso iniziare a farlo allora intanto vabbè inizio a farle scusate inizio a farle un po' adesso allora adesso con un po' coberato allora ci sono e cioè a vento per i miei ciccieri quelli della più per me ma come costa cinesi ho già sperato un po' non so se mi chiedevo non so che un po' non sono malissimo però non sono neanche buonissimi non sono i classi più piccoli dei classi chi sono i classici minicicci di testa giallo che accendete credi che accendete con la città del classico sono andato dai cinesi coi dietro cosa mia allora e minicicci è nata passando un po' più potente ci sono io ho la domanda io ho la domanda con amici non ho tutti conoscerete sicura questi qua sono io ho la domanda con amici mi piace vale a vero ce ne scriverebbe la sorta dentro punti pezzi se ne sbaglio ti erano scorsa era così e qua dentro io vado questi petardi paio li consiglio perché se volete la roba potente questa è abbastanza potente anzi molto potente molto comunque questo è una domanda con amici un'altra scatola che tirò domanda con amici sempre uguale non si tirava di fuori poi ci sono i mani i cinesi 40 maggio cinesi ne ho già sperato non sono il gran che c'è un costo qua ma troppo le migliori un costo non c'è un piccolo amici perché sono andato in armaria ma non li trovo e niente per ora io c'è solo questi qua e una fontana per 5 4 fontane che riesco a trovare il video che faccio vedere eccomi scusate ho trovato il video ho trovato il video ho trovato no? no questo qua non è solo la fila di mano ma è tutto tranquillo che è quello che è meglio questo è la fontana comunque fa tanto fumo perché l'ho provato praticamente fa tanto fumo e però è bella allora comunque direi che per questo video può essere tutto seguitemi su instagram con il profilo privato però c'è andreaberto02 seguitemi su facebook ilberto e niente seguitemi dappertutto e se arriviamo a minimo 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 2 like 2 non di più se arriviamo di più meglio ancora meglio così faccio un altro video e però faccio il carico di capodello ci vediamo